Buonasera a tutti, i timori sul rischio, il contagio del coronavirus e il downgrade del Fondo Monetario Internazionale spingono al ribasso i listini europei. DAX che è l'unica piazza finanziaria europea che riesce a chiudere sulla parità e precisamente a più 0,05%, IBEX che invece chiude a meno 0,56%, CAC di Parigi a meno 0,55%, FUZI Londra a meno 0,52%, EDFUZMIB Piazza Affari che praticamente chiude con la peggiore performance della giornata a meno 0,65%. Per quanto riguarda invece le news che sono state rilasciate oggi, segnali positivi per il mercato del lavoro in Gran Bretagna nel trimestre terminato a novembre si sono registrati 208.000 nuovi occupati, ben oltre i 110.000 previsti dagli analisti. Il tasso di disoccupazione invece si è attestato a novembre al 3,8% stabili rispetto al mese prima come de'attese. Questa situazione ha spinto al rialzo durante la giornata in ottica intraday la sterlina, questo poi lo andiamo a vedere anche per quanto riguarda la best and worst, a 2,35%, seppure in ottica mensile abbiamo ancora una sterlina in non flessione, quindi alla fine dobbiamo andare ad identificare questa seduta come una normale movimentazione di breve termine, quindi giornaliera solo per quanto riguarda questa giornata, ma fondamentalmente la view rimane ancora ribassista sulla sterlina, che potrebbe continuare appunto dato i problemi legati alla Brexit, dove ieri già ne abbiamo parlato anche durante le due dirette live, la prima diretta live della nuova ottava dove già si evincono i primi problemi legati ai vari rapporti commerciali tra il blocco europeo e la Gran Bretagna post Brexit e poi ieri è stato sconfitto per la prima volta in Parlamento il nuovo governo guidato da Boris Johnson dopo le elezioni del 12 dicembre. Mentre invece poi abbiamo dalla Gran Bretagna, dalla Germania, oggi l'indice Zevo con un ottimo risultato, a gennaio l'indice che praticamente misura il sentiment dell'economia tedesca dei primi mesi, il primo mese del 2020 si è attestato a 26,7 punti, indeciso miglioramento rispetto ai 10,7 punti della passata rilevazione. Il consensus di Bloomberg addirittura indicava un dato pari a 15 punti. Andiamo a vedere invece domani che cosa ci offre il calendario macroeconomico, mercoledì 22 gennaio si parte sempre alle 10.30 con la Gran Bretagna con le vendite al dettaglio del mese di dicembre, poi alle 14.30 l'indice dei principali prezzi al consumo di dicembre, poi alle ore 16 dagli Stati Uniti le vendite di abitazioni esistenti del mese di dicembre, poi alla volta della Banca Centrale Canadese sui tassi di interesse alle ore 16, alle 17.15 consueta conferenza stampa. Alle 22.30 invece abbiamo le scorte di petrolio greggio. Bene, ora passiamo ad analizzare l'eurodollaro. L'eurodollaro che, nonostante una giornata di alte e bassi dovuto a un picco rialzista, vedete in ottica H4, con un massimo fino a poter raggiungere, dopo le parole al World Economic Forum, dopo l'intervento di Donald Trump che ha spinto, c'è stata questa spinta rialzista, poi è ritornato, l'ultima candida è ritorna un'altra volta in pressione ribassista, dopo che ha virato esattamente sulla falsa rottura al test del pivò settimanale a 1.11.15. Quindi al momento la VU per quanto riguarda l'eurodollaro rimane ancora ribassista. Stessa situazione, si vince anche in ottica settimanale. Mentre invece per stellina dollaro non è venuto ancora il momento di vendite, però è una zona molto interessante. Oggi le quotazioni sono andate quindi a testare il livello annuale 1.30.761 con le quotazioni che nel momento in cui siamo in onda, in questo momento si portano 1.30.40 al test della trend line, della trend line del livello dinamico che praticamente poi funge anche dal neck line del test S-PAL. Quindi ovviamente al di sotto 1.29.60, un breakout sotto 1.29.60 potrebbe far partire delle ottime movimentazioni di vendita. Mentre invece per quanto riguarda USD Franco, restiamo ancora a guardare o per opportunità buy. In questo momento il prezzo si sta avvicinando su questa zona. Breakout qua sopra, diciamo, c'è la possibilità di poter spingere per opportunità long. Mentre invece per quanto riguarda, andiamo a vedere un altro scenario, euro sterlina, interessante anche per quanto riguarda euro sterlina. Situazione che al momento abbiamo un anche qua, vedete, stessa situazione per USD Franco. Ho un breakout sopra questa zona, potrebbe far aprire spiragli long. Oppure, se aspettiamo una correzione intorno al 50.61.8, dove abbiamo anche 0.84.270 livello annuale, da dove potrebbe partire il long. Quindi aspettiamo, in questo momento siamo all'interno di una congestione. Aspettiamo nuove news da parte della lettura dei prezzi. Euro Franco, euro franco potrebbe iniziare qualche possibile movimentazione al rialzo, però al momento, vedete, piano piano, siamo in una fase di congestione. Quindi anche qua, sopra quest'area, sopra 1.0790, 1.0785, potrebbe partire qualche movimentazione long. Interessante. Dopo euro franco, andiamo a guardare euro new zealand, dove abbiamo già posizionato un 6 stop, e anche questo è uno scenario molto interessante, che ci potrebbe dare delle opportunità di vendita, dopo che i prezzi sono andati oggi a posizionarsi sopra, a fare una farsa rottura per la seconda volta, a 1.68204. Si sono riportati sotto al piovo settimanale, il breakout della trendline potrebbe far partire delle ottime movimentazioni sell. Poi andiamo a vedere anche la situazione su Stellina Dollaro canadese, dove praticamente restiamo ancora a mercato. Il 6 stop non è stato ancora triggerato, però la view sembra che dopo questa fase di correzione al breakout di 080, scusatemi, GBP CAD, al breakout di questa zona potrebbero partire, sotto al minimo potrebbero partire altre movimentazioni sell. Mentre invece per New Zealand CAD, possibilità di una continuazione del movimento ribassista, iniziato proprio al test di 0.87-0.88, primo movimento, quindi zona di congestione, un breakout sotto 0.85-0.90 potrebbe aprire una situazione ribassista. Poi, per quanto riguarda invece altri, andiamo a vedere anche la situazione legata al momento, vedete, andiamo a vedere l'oro come si sta comportando. Quindi, per quanto riguarda l'oro, la situazione è ancora in pending, alti e bassi, in questo momento, diciamo, si è appoggiato, è ripartito al test di una falsa rottura del pivot settimanale, quindi un possibile long. Quindi, però, diciamo che la situazione non è molto chiara, quindi aspettiamo situazioni, diciamo, più interessanti per le prossime ore, o per le prossime giornate. US crude, US crude, rimbalzo in ottica su questa zona, quindi zona che è stata risentita un'olta dal prezzo, sopra 58.64, un close sopra 58.64 potrebbe far partire dei movimenti rialzisti. Ciò, diciamo che il possibile partenza long del prezzo dell'oil è dovuto anche alla riduzione della, o meglio, in Iran ed soprattutto anche in Libia, o la chiusura di alcuni stabilimenti, alcune raffinerie molto importanti. E quindi, quindi, la riduzione della produzione, quindi ciò potrebbe far aumentare i prezzi del petrolio. Mentre invece, per quanto riguarda l'azionario, siamo buy su Twitter, in questo momento stiamo, ingresso fatto a 34.17, siamo intorno alla parità. E' situazione che potrebbe, siamo entrati al mercato, in quanto potrebbe iniziare, un attimo solo che, siamo intorno, vedete, alla parità. Situazione che potrebbe iniziare, quindi primo ingresso buy, però non escluda la possibilità di un altro ingresso più in basso in mediazione, in caso di una, anche di una leggera correzione, ma al momento siamo, ehm, al test di questa, di questa zona. Eh, bene, eh, al momento non abbiamo inserito né target né stop loss, però molto probabilmente potrebbe raggiungere, nei prossimi mesi, anche in massimo, intorno a 45 e 40. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per la vostra attenzione, ci aggiorniamo, quindi, a domani mattina, con la terza diretta live mattutina della settimana. Buonasera da tutti.